Non dobbiamo andare di là Dove siamo? Non lo so Ottimo Ci sta eh Allora partiamo da voi siete qui Siamo qua Tratto consigliato a cavallo Mi vuoi sposare? Certo Sei bellissimo Eccoci qua ragazzi pronti per una nuova camminata Siamo partiti da Campo Tamaso Adesso andiamo su a Croce dei Castiglieri Facciamo un anello Tutto affiancato da questo ruscelletto Come pastore? C'è il campo come fazere Samuel C'è una nuova persona Emanuele Costa Ema Vieni qua Allora da dove cavolo salti fuori te Dall'onigo E sono il migliore In breve mi chiamo Emanuele Sono un amico di questi qua E siamo facendo una camminata Ari in classe di campo Buongiorno campo Buongiorno E stiamo facendo una camminata Ciao ragazzi il video è finito Ciao ragazzi Ma sta a puntare in Pili cos'è? Ecco a voi una barretta gran cereale Che potete gustare Quando siete Dovete comprare gli indicati Morti Ovviamente comprate dai vostri amici Non dovete comprarle voi Com'è? Buonissima Ottimo Ragazzi ormai siamo arrivati Ci spera Perché stiamo andando avanti Per questo sentiero dritto Da 20 minuti Cosa dici tu? Spero che sia finito Poi la sua stufa Siamo arrivati signori Adesso lasciamo asciugare la maglietta Adesso lasciamo asciugare la maglietta Basta che dopo non lo metti nel video Bisognava fare una bellissima foto artistica A chi? A un gabbiano In volo Io dovevo semplicemente spaventarlo Quello che avevo calcolato male Le distanze Sono sceso per le gradinate Che c'era tutta melma Ho fatto un capitolo E sono finito dentro al fiume Tanti dirà del fiume che c'era? Ah solamente 50 persone Che stavano lì guardando Che non si è mossa neanche una Fortunatamente No per fortuna Avevo fatto il corso di nuoto Adesso si torna giù signori Uno, due, tre Che stavano lì guardando